Tira un gran sospiro di sollievo il comune dell'Aquila che salva il bilancio a fine anno, grazie al cosiddetto pacchetto Abruzzo contenuto nel decreto mille proroghe approvato ieri. Il pacchetto prevede lo stanziamento di 12 milioni di euro per il comune e di 2 milioni di euro per il cratere per compensare le minori entrate e le maggiori uscite dei bilanci. Il comune dell'Aquila è ora in condizione di redigere entro i primi 10 giorni di gennaio il bilancio di previsione senza dover ricorrere, come invece accadde lo scorso anno, all'aumento della Tari. Il provvedimento del governo prevede anche le proroghe per i precari della pubblica amministrazione i cui contratti sarebbero scaduti a fine anno, compresi i dipendenti dei centri per l'impiego a livello nazionale. Inoltre, prevede la proroga fino al 2018 per il personale a tempo determinato del comune dell'Aquila per consentire l'allineamento con il personale dei due uffici specializzati per la ricostruzione, l'USRA e l'USRC, più le autorizzazioni per la copertura finanziaria delle somme scoperte dei precari del cratere. Il sostanzioso pacchetto di provvedimenti per l'Aquila e il cratere, contenuto appunto nel mille proroghe, è un provvedimento che prevede anche le proroghe per i precari della pubblica amministrazione i cui contratti sarebbero scaduti a fine anno senza possibilità di rinnovo, compresi i dipendenti dei centri per l'impiego a livello nazionale. Il governo Gentiloni prosegue la buona marcia impressa dal governo Renzi e ha mostrato di mantenere alta l'attenzione sull'Aquila e sui comuni del cratere. Questo è il commento della senatrice aquilana Stefania Pezzopane. Una gran parte di emendamenti del pacchetto che avevo preparato è passata dunque con il mille proroghe. Ad oggi all'Aquila però ci sono più finanziamenti che progetti, ha sottolineato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, invitando alla coesione di intenti gli uffici speciali e il governo. Con un'operazione a saldo e stralcio di circa un milione e mezzo di euro, il centro turistico del Gran Sasso ha battuto il debito di oltre 4 milioni che gravava sulla società. Un anno di lavoro con la progettazione di nuove iniziative per rendere più appetibile l'offerta montana aquilana, ma soprattutto meno onerosa per le tasche dei cittadini questo tipo di gestione. Circa 7 milioni di euro già impegnati e in parte spesi per il rilancio delle attività. La progettazione e la costruzione di un percorso dello snow park, uno snow park che è tra i più grandi dell'Appennino. Abbiamo riattivato la manovia, abbiamo ricollaudato tutti gli impianti, a primavera partiranno i lavori di sostituzione della seggioia delle fontari, così come partiranno i lavori dell'hotel di Campo Imperatore. L'ostello è già in fase di ristrutturazione, anche abbastanza avanzata. Ci sarà la ristrutturazione dell'hotel Cristallo. È intenzione della società a gestire direttamente le strutture ricettive, che danno un grande aiuto da un punto di vista economico. Un inverno, quello che si appresta al Capodanno, che stenta però a partire a causa della mancanza della neve. Fino all'altro ieri le temperature erano elevate e quindi con il caldo difficilmente si ha voglia di andare a sciare in montagna. Anche le altre stazioni che hanno l'innevamento artificiale soffrono questa mancanza, perché chi va in montagna e soprattutto chi va a sciare lo vuole fare, circondato da un panorama che sia adeguato a quello che fa. Noi ce la stiamo cavando con gli escursionisti, con chi va in montagna, con gli scalatori e chi sta salendo in albergo in questi giorni.